Ciao! Allora, prima di tutto sappiate che ci sono 50 parlamentari a piede libero che camminano tra di voi. State molto attenti. Sono senza scorta e quindi liberi di fare quello che vogliono. Io oggi, dopo aver sentito i miei amici, fratelli, sorelle, perché di questo stiamo parlando ormai dopo un anno, non posso che dire poche cose. E di queste poche cose che voglio dirvi, una è la più importante. E viene da una domanda che mi faceva una giornalista prima, che diceva «Oggi siete venuti a Milano per lanciare la campagna elettorale per le europee?» E io ho risposto «Noi la campagna elettorale per le europee l'abbiamo lanciata nel 2005, dieci anni fa, quando abbiamo cominciato». Perché io non so se tutti si ricordano, ma c'è stato un tempo in cui questo movimento non voleva neanche candidarsi. C'è stato un tempo in cui eravamo dei meet-up che mettevano insieme delle intelligenze, grazie a una persona che si chiama Beppe Grillo, che mettevano insieme... Fateglielo l'applauso, perché senza di lui qua non ci staremo. Mettevamo insieme le intelligenze e quelle intelligenze ci dovevano servire semplicemente a fare dei progetti da portare alla politica e a farglieli considerare. Ma per tre, quattro anni a ritirare quei progetti mandavano sempre un poliziotto in assetto antisommossa. Non sono mai venuti loro, non ci ha mai aperto un assessore regionale, un assessore comunale. Io vengo dalla terra dei fuochi, Roberto Fico e quelli del meet-up di Napoli. Quanti piani per la gestione dei rifiuti hanno fatto ai presidenti di regione? Non ci hanno mai ascoltato. E allora, dopo avergli dato tutte le opportunità del caso, li abbiamo votati, abbiamo sostenuto candidati indipendenti nelle liste dei partiti, ci hanno sempre fregato, sempre ci hanno fregato, per anni ci hanno fregato. Allora a un certo punto ci siamo scocciati e abbiamo deciso di fare il Movimento 5 Stelle, cioè entrare nelle istituzioni e sostituirli. Questo abbiamo deciso di fare. E se noi pensiamo a questo, allora è logico che la campagna elettorale per le europee è in atto da quando abbiamo iniziato, perché ormai sono anni che siamo consapevoli che questi possono cambiare volto, possono fare un bel programma, una bella campagna elettorale, ma sempre loro sono. Voi l'avete pagato sulla vostra pelle, con il vostro sindaco, io l'ho pagata col sindaco di Napoli, un altro come Renzi, che all'inizio ha fatto la propaganda politica in pompa magna, che ha cercato di far vedere che era il nuovo, ma poi è finito nelle logiche dei vecchi. Perché? Perché questa gente non ha le mani libere, ha dietro i partiti che hanno distrutto questo Paese negli ultimi vent'anni e oggi ci vengono a dire che vogliono cambiarlo. Noi con questo Movimento abbiamo dimostrato negli anni che quello che dicevamo si poteva fare. Abbiamo detto che un politico poteva guadagnare la metà e noi restituiamo metà del nostro stipendio e lo mettiamo su un fondo per gli imprenditori in difficoltà. Abbiamo detto che la politica si poteva fare senza rimborsi elettorali. All'ultima elezione non solo abbiamo rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, ma quelli che ci hanno dato i cittadini con le donazioni private. La metà non ci è servita. Noi abbiamo raccolto 700 mila euro e oltre 400 mila le abbiamo dati ad una scuola in Emilia Romagna, nelle zone terremotate, per costruire una palestra. Abbiamo detto che la politica e i politici devono stare per poco tempo nelle istituzioni. I parlamentari massimo due mandati, ce lo siamo imposto ed è così, questo è il mio primo mandato, se cade la legislatura è finito, ne ho un altro, poi torno a casa a fare il cittadino normale, al mio lavoro e se le condizioni quando tornerò saranno migliori è perché questo progetto le ha migliorate. Noi stiamo dimostrando quello che abbiamo detto e lo stiamo facendo ogni giorno, senza aspettare le leggi come dicono gli altri, avevamo tanti di quei politici che nel talk show fino a cinque anni fa ci venivano a dire che bisognerebbe ridurre i costi della politica, ma ci vuole una legge e io li guardavo e dicevo ma questo guadagna 20 mila euro al mese e aspetta una legge per ridursi lo stipendio, ma perché non se lo riduce subito, prima della legge? E noi lo facciamo e siamo gli unici e il bello è che prendono in giro noi, il bello è che criticano noi in questo paese. Allora io posso dire solo una cosa, alle prossime elezioni europee e comunali, perché ce ne saranno di regionali, comunali e europei, lo stesso giorno, il 25 maggio, ci saranno tutti bellissimi programmi, tutti i partiti avranno dei programmi bellissimi, loro hanno imparato a copiare da noi e sono diventati bravi, li fanno anche migliori dei nostri, non è una questione di programma, i nostri temi li conoscete, il discorso è che noi dobbiamo votare persone credibili che possono sostenere quel programma e che significa persona credibile? Significa che sei uno che fa quello che dice, voi avete di fronte un movimento che fa quello che dice e ve l'ho detto, io vi prego andate da tutte le persone che conoscete, cercate di spiegarglielo questo concetto, perché nei prossimi mesi tutti vi diranno che sono contro questa Europa delle banche, ma loro hanno firmato i trattati che ci hanno portato in braccio alle banche, vedo Giorgia Meloni che va nelle tv a dire che è contro questa Europa, è del governo che ha firmato il Fiscal Compact fino a due mesi fa, questa gente qua ci sta prendendo in giro, non vi fate fregare, io non mi faccio fregare più. Un altro valore, poi concludo, questo movimento credeva in un'altra cosa, che non serviva l'esperienza per fare politica, ma serviva l'onestà e soprattutto l'entusiasmo. Qui tra queste persone avete una persona, un parlamentare, si chiama Riccardo Fraccaro, è uno che è andato ed è stato eletto in Parlamento come me, in un organo che si chiama Ufficio di Presidenza. Quando siamo arrivati lì ci siamo letti i bilanci della Camera dei Deputati e abbiamo scoperto che abbiamo speso, voi avete speso negli ultimi 13 anni, 550 milioni di euro di fitti per due palazzi che valgono 3 milioni di euro e che questo contratto gliel'aveva firmato un certo violante del PD, un certo violante. Bene, bene. Arrivati lì abbiamo detto scusate, abbiamo speso 500 milioni di euro, però adesso recediamo da questi contratti, se volete ce li compriamo, non valgono niente questi palazzi, spendiamo 32 milioni di euro di fitto all'anno. e ci dicono che non si può fare perché non c'è una clausola di recesso nel contratto e fino al 2018 questo Scarpellini deve prendere 32 milioni di euro all'anno di fitti. Io e Riccardo diciamo scusate ma noi siamo quelli che fanno le leggi e voi ci venite a dire che non si può fare. Noi facciamo le leggi, siamo il legislatore e così Riccardo scrive tre righe di emendamento di cui nessuno si accorge, passa e fa saltare non solo gli affari di Scarpellini e dei fitti d'oro che voi non pagherete più quest'anno, ma il mercato dei fitti d'oro vale decine di miliardi di euro in tutta Italia con le pubbliche amministrazioni e grazie alla legge di Fraccaro che è legge dello Stato noi nei prossimi mesi avvieremo una campagna grazie ai meetup, ce ne sono in tutta Italia per andare nei comuni, nelle province e nelle regioni e denunceremo per danno erariale alla Corte dei Conti tutti i sindaci e i presidenti di regione che non disdicono i fitti d'oro. Ovvero, questo ve lo racconto come esempio del fatto che se le persone normali entrano in e siccome non stanno immischiate con i palazzinari che prendevano i miliardi dagli organi costituzionali e gli enti pubblici possono far saltare i contratti ed è questo il valore aggiunto di questo movimento mettiamoci in testa che il politico del domani è una persona normale che per un po' di tempo sta nelle istituzioni con una paga congrua e soprattutto controllato da voi fuori e io vi ringrazio perché voi ci state controllando e noi sbagliamo sempre di meno. Grazie